Jazz Convention on TV La home page del sito Sono come di consueto tre le recensioni in home page ZAS Trio Il disco omonimo della formazione composta da Marcello Peralta, Baldo Martinez e Carlo Gonzalez Keywords del trio di Enrico Zanisi e Rue Dalmon del Gloria Trapani Quartet Prosegue Slideshow La galleria di ritratti articolata e curiosa condotta da Guido Michelone Questa settimana abbiamo pubblicato l'intervista con Aldo Brizzi e il suo viaggio nella musica brasiliana Jazz Convention e Media Parter nei concerti italiani del trio giapponese Tree Space in programma sabato 12 aprile all'Alexander Lass di Roma e domenica 13 aprile al Club 1799 di Acqua Viva delle Fonti in provincia di Pari Ricordiamo ai musicisti e agli operatori del settore che possono pubblicare in modo autonomo e gratuito le notizie relative agli eventi e alle uscite discografiche nelle pagine agenda e comunicati del sito Naturalmente tutto questo lo potete trovare con contributi e aggiornamenti sempre nuovi sul sito www.jazzconvention.net e sulle pagine presenti su tutti i social network Vi saluto e vi aspetto la settimana prossima sempre su Jazz Convention TV Pl Grazie a tutti Pontos